Signori, oggi giornata di novità, infatti è uscita la producer letter per quanto riguarda Doc and Battle è incredibile ma vero Hanno rilasciato delle news e probabilmente, faride sta cosa, però ci sono le news molto più interessanti rispetto a tutto il mese di KKK che abbiamo fatto Vabbè, ma questa ormai è una memata sti KKK, però faride sta cosa Cioè hanno rilasciato più roba ai problemi di sto producer letter che in un mese di contenuti KKK Vabbè, lasciamo stare Ci vediamo velocemente cosa hanno detto al producer letter e poi vediamo nei dettagli tutto Visto che comunque dura dieci minuti, non vi voglio caricare tutti i dieci minuti Quindi vi metto le parti più importanti e quello che dicono di interessante Allora ragazzi, prima news, come potete vedere hanno confermato l'ez di Gogeta e Janemba Che sarà il continuo, dovrebbe essere, perché c'è scritto in basso a destra event periodo Che sarebbe l'1-10, quindi fra qualche giorno Il continuo della celebrazione di Broly, no, tema film E quindi finalmente, dopo non so quanti anni, Gogeta e Janemba ricevono l'ezza Sono molto curioso, abbiamo già il kit anche dell'ezza, quindi dopo ce l'andiamo anche a leggere E... speriamo bene, io ancora non ho letto nulla Ma sulla carta sono veramente, hanno una potenzialità incredibile Nuve memorable battles, quindi nuovi stage che possono essere simpatici Ma se li fanno come quelli dei KK, abbastanza un abominio Ok, questi sono i prossimi update che arriveranno come schedule su Docker Allora abbiamo... Change of Summon Format a ottobre, quindi da mese prossimo abbiamo un nuovo format di Summon Probabilmente o riprendono quelli dell'anniversario Oppure proprio un nuovo sistema di format The Greatest Warrior, credo che sia comunque Gogeta C'è Ractor Details, Icone in Battle, ok Poi abbiamo... durante novembre e dicembre Il decimo anniversario, come sapete Celebrerà 10 anni, l'anno prossimo toccano, quindi tanta tanta roba Nuove skill aggiunte, nuovi dettagli sui personaggi e eccetera Poi altri news verranno rivelate poi Come dettagli negli eventi invece abbiamo quest Dokkan Story Bardak Dokkan Awakening Quindi probabilmente dovrebbe essere credo il Bardak quello della storia Il Bardak agile che si farma, finalmente direi, se sono ricordati Stessa cosa abbiamo per Freezer tra novembre e dicembre E hanno confermato, io direi meno male, la campagna di Super Dragon Ball Heroes Come sapete l'anime è andato in pausa credo per sempre Non lo guardo, quindi non vi saprei dire Però so che non lo stanno trasmettendo più E quindi... però la campagna su Dokkan continua ad esserci Meno male perché ci sono veramente un sacco di personaggi che devono ricevere le Zabbarra Possono fare un sacco di porcate su Dokkan No, con Super Dragon Ball Heroes veramente ci puoi mettere i chi di pale dentro Quindi veramente hanno tanta potenzialità E speriamo che esca la LR Perché non c'è ancora un LR di sta... di... Sta categori E poi abbiamo la Divine Dragon Carnival Dovrebbe essere un nuovo tipologia di Carnival credo Quindi è una sorta di nuova rarità Alzo le mani e metto le mani avanti che non so cosa voglio dire Però speriamo di no Oppure un nuovo banner ecco Che potrebbe andare in combo con il Change of Summon Format forse E poi beh, decimo anni Approaching Come collezionare i coin che verranno dati nel decimo anniversario Che ne so, la solita precelebrazione prima dell'anni Infatti come vedete Pare da ottobre, novembre, dicembre e gennaio Che poi inizia l'anniversario Ecco qua, come vedete Sia Bardak che Freezer riceveranno la versione Tour Sperando anche un'eventuale Zabbarra LR Chi dei due Ecco, questa è la prima parte del decimo anniversario Approaching Quindi qualche mese prima dell'anniversario avremo questa Questo evento, diciamo Che completando probabilmente dropperemo dei coin Che potremo scambiare poi all'anniversario Ok, probabilmente sono dei collezionabili in game Cioè voi collezionate le icone degli anniversari? Penso, una cosa del genere Ok, molto strano Ok, hanno messo una nuova icona Che ti va a dire quante volte il personale ha fatto una determinata cosa Ovvero, ha attaccato tipo Ha tirato una special Ha preso un colpo Ha attivato la guardia Ha doggiato Simpatica come cosa Probabilmente vogliono andare in combo Con i personaggi che usciranno all'anniversario Forse Che in base, che ne so Hai si fatto tre attacchi Ti ricordi il setup Anche per il fatto dei personaggi Si devono setupare dopo 8 puni Dopo 8 special e così via Vai a vedere qui e vai a vedere quanto effettivamente si sono setupati Molto utile sta cosa, ecco Ah, hanno messo il tasto adesso Che se voi cliccare vi fa vedere tutta la passiva E non dovete mantenere premuto sulla passiva Per farla avere a full screen Una cosa in più aggiuntiva Che pure questo è molto utile Hanno cambiato il design delle skill Quindi adesso tipo lo stun ha quella nuova icona Il non poter essere stannato ha quella nuova icona E così via Il turn delay Quindi tipo il ghost usher E quando lo utilizzate Che il boss non può attaccare È quello La special quando è silata Non silabile Quando interrompete un attacco nemico E quanto è immune a essere interrotto Ehm Interessante Ok, ora parleranno del greatest warrior Penso E ci sarà del contenuto Tipo dopo aver completato le missioni Ehm Ok Un po' particolare Tipo una celebrazione Ecco mettiamola così Ah vedete Ecco Oh ma qua Ma chi è tutta sta gente nuova? Ci sta quel piccolo goana Che non è in game Nei criti Nei jammerci Nei dancing Nei riff Ma sono personaggi nuovi Ah ma saranno Tipo come Hanno dato quel google air Free to play Che inizia il gioco No? Ti regalano poi tramite le missioni Altro Hanno messo anche Mo questi altri free to play Probabilmente Quindi una sorta di Team Per aiutarvi A iniziare il gioco Molto buono Specialmente ma con l'inizio dell'anniversario Molte persone torneranno a giocare Barra cominceranno da zero Quindi Può essere utile come cosa Ok Change of summon format Speriamo che fanno vedere come lo cambiano Se in meglio o in peggio Ehm The summon format Of the open fest Legend summon with bin Finalmente è stato unificato Ok Change Ehm Hanno messo Performate Quando fate una summon normale Otterete i coin E poi te ne scambiano Il determinato numero di coin Nel nuovo personaggio Quindi io credo che Il fatto che hanno messo come KK Rimarrà fissa A sto punto Ehm Penso di sì Ah Largest call campaign Sotto c'è scritto Worldwide Quindi KK Anniversario Eccetera Ehm Dock Thank you Celebration Sion Day Ehm Campagne E dual dockham fest Sono esclusi Ah Quindi sta cosa È soltanto per i KK L'anniversario Ok Ehm Va bene E poi abbiamo Sette giri Quindi sette round solid Che ogni tre multe Abbiamo un featurid garantito Buono Questo molto molto buono Che probabilmente Riuscite a prendere anche prima il personaggio Se non riuscite a prenderlo al garantito Cioè Se non ci arrivate Perlomeno avete anche il featurid garantito Non male questo E finisce così signori La schedule qua Il 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 promemoria che ci hanno fatto Di questi nuovi eventi che arriveranno Molto interessante Ehm Molte cose simpali Che io adesso Ci andiamo a vedere naturalmente Lezza di Gogeta e Janemba Che è la È la cosa succulente Eccolo qua signori Janemba in tutto il suo splendore Bellissimo Fichissimo Tutto quello che volete Allora Ad Ezza cosa fa? Chi più quattro Capetta canale 170 Corrote dei movie bosses Ok Ci può stare Visto che comunque Se qualcuno non ha pullato Brawly Potete metterlo lì 12 ki Resist attack and F per un turno Cosa con la stat damage Greatly over death 18 ki Resist attack and F per un turno Mega con la stat damage Massive over death Passiva Chi più si attacca and F 166 Guarda contro tutti gli attacchi Cosa che mi sembra Ehm Prezza Lo aveva solo in un determinato spot Ma non mi ricordo di preciso Comunque molto molto buono Il suo interno Cevuto del 22% fisso Lancia la disciata Che ha great chance Di essere una special per un turno Quando il personaggio Fa la prima apparizione Quindi anche per set up pass Perché adesso come andiamo a vedere In base a quanti attacchi di vita Si fa setappare Ki più 2 per un massimo di 6 Attacca and F più 66 Per un massimo di 166 Chance per fare un crit Più 22 per un massimo di 66 Per ogni attacco performato Come vedete Quindi il turno è già turno 1 Tipo potreste full setapparlo Attacco più 66 Quando il ki è 22 superiore Il suo interno ricevuto del 22% Quando il personaggio È primo o secondo slot Lancia una disciata Che ha great chance Di essere una special Se il secondo o terzo Ad attaccare Quindi sto qua ragazzi Per ma secondo slot Secondo slot Attivate tutta la passiva Great chance Anzi non unificare Ki blast super attack E Egg chance Si va degli attacchi nemici Temporalmente Quando riceve un super attack Quindi quando riceve una special Può anche doggiarla Molto interessante Pre trasformazione Che poi alla fine È quello che andremo a giocare C'ha guardia fissa 44% di DR Great resist attack and F Nella 18 ki Quindi post special Nella 12 anche C'ha resist attack and F Molto utile E da secondo slot Ragazzi è perfetto Cioè nulla da dirgli C'ha pure la possibilità Di lanciare una special In più Sto qua Appena entra in turno Lo mette nel secondo slot Può lanciare 4 special Poi Addition attack Poi non lo lancia più Dopo la sua prima apparizione Quindi amen Però il primo turno Potrebbe lanciare 4 special Non male Poi vabbè Comunque considerate Che andate a fare full setup Subito Quindi molto molto forte Per nulla male Soltanto che Da primo o secondo slot Ci guadagna la DR E da secondo o terzo slot Ce l'ha il fatto di poter Lanciare una special Tutto qui Però la guardia è fissa Quindi molto interessante Anche a livello di stats È molto solido E ci sta comezza E poi naturalmente Da testare Però per il momento Sulla carta Sembra molto molto figo Poi ce lo vediamo Un attimo trasformato Ma è una cosa Proprio da niente Quindi c'ha 12 kick Crazy attack temporaneamente Distractive damage E performa un crit Ok Quindi c'ha pure crit fisso Ok Massive crazy attack temporaneamente Distractive damage E performa un crit Cambia Tutte le orbe In fisiche Ok Ki più 2 per ogni orbe Ottenuta Attacco più 16 per ogni orbe Ottenuta Porca troia Diventa nuker Tipo Eh Sta trasformazione È molto interessante Poi Questa è una trasformazione Dove siete immortali Quindi avete tutta la tornazione Di Janemba E Non potete morire Non male ragazzi Veramente non male Sto Janemba Sembra veramente Un ottimo supporto A movie boss Se in generale Tutti i team doveva giocare Specialmente in corroded Che lì proprio Ci sono 4 personaggi in croce Buona Buonezza Dai hanno fatto veramente Un buon lavoro E adesso ragazzi Passiamo Al re Gogeta Quando uscì Che ti faceva della special In combo con Vegetta e settiere Quanto era sbroccata? Speriamo che gli hanno fatto Un signorezza Allora Leader skill 180 Va bene 12 ki Resist attack All'infinito Mi sembra che Prima non lo aveva All'infinito Gli hanno messo Lo stack all'infinito Ok Great resist Death per un turno E colossal damage Great resist Attack Great resist Death per un turno E colossal damage Gli hanno messo Lo stack infinito Signore Wow Prima non ce l'aveva Molto interessante Passiva Ki più 2 Attacca death 200 Attacca death 50 Quando performa una special Le azioni di ricevuto del 40% Cambio andetimia Do orb in rainbow Ki più 2 Per ogni orb rainbow presa Lancia un addition attack Che ha great chance Di essere una special Che va a staccare Con resist attack Attacco più 50 E lancia un addition super attack Per ogni orb rainbow presa Ok Pure questo si basa Sulle orb rainbow Sono uscendo un sacco di personaggi Sulle orb rainbow Attacca un F più 50 Le azioni di ricevuto del 20% Per un turno Quando fa la prima apparizione Il personaggio Quando gli HP sono 70 Inferiore all'inizio del turno Ok Quindi sto qua sotto Con gli HP al 60% di DR Che calcolando post special E' molto interessante C'ha great resist death Sia nella 18 Che nella 12 Da vedere un attimo Trasformato Sincero Credo Beh dovrebbe rimanere Super efficace E tutto Mi sembra Io non mi ricordo Manco trasformato come Eccolo qua Con Geda In tutto il suo splendore Molto interessante Perché potete tenerlo Un pochettino di più Anche base Per far ristaccare Un po' di più l'attacco Ma poi sto cosa Tipo trasformato Quanto Mena da fare schifo E poi vediamo Con Geda Che è la parte più Importante Ecco La trasformazione Non mi ricordo In realtà Ma credo sia invariata Vi dico subito Dovrebbe essersi attiva Quando c'è gli HP 70 o superiore Dall'inizio del quarto turno Quindi In realtà Si attiva abbastanza facile 12 ki Great resist attack Anderf per un turno Colossal damage Great resist attack Anderf per 3 turni Quindi Una sorta di stack infinito Mettiamola così Ok Poi non è infinito Però Un mini stack Mega colossal damage E droppa le stats Ok Passiva Recupero il 3 Doci di HP Una sola volta Quindi appena entrate in turno Tornate full vita Ki più 5 Full vita Vabbè Anche perché Se state sopra al 70 Per forza Stavate a tornare full vita Ki più 5 Attacca anderf 250 Attacca anderf più 77 Quando performa una special Performa un crit Quindi hanno messo Crit fisso Il seguito del 40% Cambia un determinato Orbi in Rainbow Ki più 3 per il mio Orbi Rainbow presa Attacco più 77 Lancia una disce Una superatta Che guardia Contro tutti gli attacchi Con un Rainbow Kissfer ottenuta Porca troia Gli hanno messo la guardia fissa E 40% di DR Poi abbiamo la riduzione Del danno ricevuto Del 40% Anti l'attacchi Dovrebbe essere Prima che attacca Cioè prima di ricevere un attacco Penso prima che lui attacchi Quindi sì Tipo lo mettete Primo slot Sto cosa C'ha 80% di DR Guardia Dovrebbe essere Ditemene con me Se sto sbagliando Ma mi sembra così Guarda la special nemica Per 5 turni Dalla sua apparizione Quindi appena lo trasformate Avete per 5 turni Lo spot della special Fortissimo come cosa E' sempre stata forte Quando il nemico È ittato Dalla ultra super attack Nullify Unarmed super attack Quindi post special Nullifica le special E Vabbè Le special sono dirette Verso di lui Hai di chance Di attacchi nemici Temporalmente Quando c'è una special Quindi stessa cosa Di Janemba Che quando si attiva Una special Oltre a poterla nullificare C'ha anche il dodge Ragazzi Sto qua a dire La certa cannonata Che non c'ha senso Più altro che ripeto La forma base Si fa setappare l'attacco Che ci voleva in realtà Perché la forma base Infine a parte Vela di R Non faceva nient'altro No Il fatto che adesso Si può anche setappare È molto più utile La forma base Rispetto a prima E Pure a cui hanno fatto Un bellezza Sincero Hanno fatto veramente Un bellezza Coggeta Torna prepotente In meta Probabilmente E torna a minare Da fare schifo Poi gli hanno messo Pure crit garantito Mi ricordavo C'e avesse il super efficace Forse mi sbagliavo io Però col crit garantito Vabbè Non ve lo devo meno dire Ragazzi Buildate lo full lad Sto coso Ma credo che già Se l'avete buildato Tempi addietro Già l'avrete buildato Full lad Molto molto interessante Ragazzi E molto forte Duezza veramente Con i controcazzi Bello Gran bel lavoro E Sperando che quest'anno Pure super dragon morire O se possa regalarci Grosse emozioni Per il resto ragazzi Questa era la news Fate sapere la vostra Sotto nei commenti Ci aspetta Delle settimane di fuoco Barra un anniversario Speriamo Bello bollente